buongiorno a tutto il popolo nero verde allora questa mattina dopo il consulto con la moglie c'è stata la grande decisione di tentare l'avventura o come si sente? allora la tentazione è forte perché anzi mi sono andato a vedere il video di Castanazese e Besnattese molto carino molto bello è la tentazione di dire non va tocco morbido oppure incredibile va beh allora lasciamo con un po' di suspense tutto il popolo nero verde per domani vi facciamo sapere qualche cosa intanto buona serata